la nostra connessione fa capricci nina eh perché qui c'è c'è qualcosa nell'aere hai capito che ci sono delle come si dice nell'aere nell'aere delle vibrazioni un po' strane esatto capisci a me Cosimo Bello salutiamo a Stunta Cottolino Mari Naperoni dice che mangia il ciambellone non si fa non si fa lo fai alla faccia nostra dai facciamo l'ultima così poi cambiamo però sempre 60 Cristian sì sì 60 per un minuto eh ho capito dai gira di più il busto ci siamo ci siamo e stop no Grazie.